Le carte a costo 4 sono sicuramente tra le più impattanti nel gioco di Magic the Gathering. Non sono carte né a costo così basso da poter essere giocate subito, né a costo così alto da rivelarsi quasi irraggiungibili. Che siano forse proprio loro quelle adatte a decidere le sorte di una partita? E schiera a tutti da Moxie e ben ritrovati qui con noi su HMC Magic Masters. La top di oggi è stata decisamente ardua da creare, c'erano davvero davvero tante carte tra cui scegliere. Nello stilare questa classifica ho tentato di valutare più opzioni possibili che possono verificarsi durante le nostre partite di Magic the Gathering, ho cercato di essere il più oggettiva possibile anche se nulla è completamente oggettivo, un minimo gusto personale ci sarà e ho deciso deliberatamente di escludere le creature leggendarie. Vi chiedo solo di far arrivare questa top ad almeno 100 like se volete vederne tante come facevamo una volta e se ancora non l'avete fatto e vi piacciono i nostri video valutate anche l'opzione di iscrivervi al canale. Ma quindi quali sono le creature a costo 4 più forti di Magic the Gathering? Numero 14 Falena della Covata Luminosa Creatura tanto particolare quanto interessante anche se decisamente poco comune e non riesco a spiegarmi il perché. Questa carta è in grado di riportare le nostre creature dal cimitero al campo di battaglia con un segnalino volare a patto che al momento della morte quella creatura non avesse già la suddetta abilità. Insomma può letteralmente rivelarsi una doppia vita per tutti i mazzi agro. Numero 13 Famiglio di Gioira L'evoluzione volante del meno costoso Founder Inspector è una vera manna dal cielo per tutti quei mazzi che giocano artefatti, creature leggendarie, saghe, perché appunto riduce di uno il costo di lancio di quelle carte. Ovviamente poi il fatto di essere colorless e quindi poter essere inserito in qualsiasi tipo di mazzo lo rende decisamente una carta appropriata a questa nostra classifica. Numero 12 Draghetto Crepitante Tante creature diventano più grossi in base al numero di carte presenti al cimitero ma nessuna è efficiente come questa. Volare, costituzione fissa ma fuori da botto, trigger tb che fa pescare e imbarba tutti quei cliché che prende più x più x dove x è il numero di instant e sorsere al cimitero, lei tiene conto anche di quelli in esilio. L'unica pecca forse di questa carta è il suo costo di lancio, doppio rosso doppio blu, ma in un mazzo costruito come si deve sicuramente non sarà un problema. Numero 11 Balotestardo Semplicemente questa carta da quando esiste è sempre stata giocata e anche in più contesti. È un 4-4 a costo 4 che quando entra in campo ci fa guadagnare 4 vite, ma non solo. Oltre ad aver appena accertato la sua efficacia contro tutti i mazzi agro e sparo, ci dà anche la possibilità di metterlo sul campo di battaglia dalla nostra mano se un avversario intendesse farcelo scartare. Esatto, è una più che ottima risposta alla prima abilità di Liliana del Velo, che, mi correggerete se sbaglio, è uno dei planeswalker più forti e più usati di sempre. Numero 10 Annientatore di Phyrexia Indubbiamente una delle carte più amate dai giocatori di Mono Black Devotion, questa creatura simina il panico tra tutti gli altri giocatori di Magic the Gathering da anni. 5-5 travolgere con la particolare abilità di far sacrificare permanenti ai giocatori che gli infliggono danno, questa carta può rivelarsi un bel problema in mancanza di una rimozione diversa da uno sparo. Prendersi danni non parando, sacrificare permanenti per non scendere troppo di vita o addirittura smettere totalmente di attaccare per evitare di essere bloccati e quindi rimanere con il campo vuoto? Numero 9 Angelo della Restaurazione Un angelo che ci permette a velocità instant di blincare una nostra creatura. Altre creature permettono di farlo ma non hanno lampo, non hanno volare e non sono così grosse. Questa carta è il bloccante che non ti aspetti, quella che ti serve per far ritriggerare qualcos'altro. Non per forza la creatura che salva un'altra creatura da una rimozione, i suoi usi sono molteplici e molto interessanti. Numero 8 Rinoceronte d'Assedio Punta di diamante di molti mazzi Abzan, questa creatura ha sempre avuto un impatto molto importante sul campo di battaglia. Stiamo parlando di un 4-5 a costo 4 contravolgere con un trigger TB che fa perdere 3 punti vita a ogni avversario e ne fa guadagnare 3 a noi. Abbiamo tutto quindi, ottimo body, ottimo aggro, costo medio e ottima carta per andare a guadagnare del tempo contro tutti quei mazzi burn e aggro che poi avranno bisogno di un doppio sparo per togliere di mezzo questa carta. E ne avranno bisogno un ulteriore per andare a toglierci tutti quei punti vita che questa carta ci ha fatto guadagnare. Numero 7 Ogre traditore e spettro della cripta Entrambe queste carte hanno lo scopo di fare mana e farne tanto. Se l'ogre è forse da considerarsi un gradino sopra avendo limite legato alla creazione di mana rosso legato soltanto ai nostri punti vita, il secondo si difende grazie all'importanza dell'abilità estorsione e al fatto di potenziare le paludi semplicemente rimanendo in campo. Credo che le differenze tra queste due carte possano venire fuori soltanto in base al contesto e al mazzo che stiamo utilizzando in quel momento. Numero 6 Metamorfosi Firexian, Metamorfosi Chirurgica e Impostore Scaltro Tra le miriadi di cloni presenti in questo gioco, perché a mio parere questi tre spiccano su tutti gli altri? Il primo ha il vantaggio di poter clonare creatura o artefatto, ma soprattutto di poterlo fare sfruttando il mana firexiano, quindi lo andremo quasi sempre a pagare tre al posto che quattro. Il secondo può costare uno in meno se non siamo il giocatore che ha giocato il primo turno della partita e può andare a copiare qualsiasi permanente, peccato però che esista solo su Arena. Entrambi i cloni appena citati assumono anche il tipo artefatto, andando quindi ad aumentare le carte in grado di rimuoverli. L'impostore Scaltro invece copia qualsiasi permanente senza altre indicazioni aggiuntive, ma dobbiamo per forza pagarlo quattro. Voi quale preferite? Numero 5 Serpente Mistico e Mistica dal Collarino Neutralizzare magie utilizzando carte diverse dagli istantanei mi ha sempre dato quel senso di potere, di inaspettato. Queste creature ci permettono di assaporare questa sensazione di sorpresa al meglio, e hey, come per Restoration Angel, nessuno ci vieta di lanciarle con un obiettivo diverso dal neutralizzare una magia, visto che possono rivelarsi ottimi bloccanti di fortuna e interessanti per far triggerare varie abilità. Numero 4 Rettore dell'Accademia e Rettore dell'Arena Sarò di parte, è vero, ma delle creature che alla morte ti portano in campo dal mazzo un incantesimo o un planeswalker a tua scelta, senza vincolo sui costi, beh, sicuramente non sono da sottovalutare. A nessuno piace essere lì con due tenere vecchine di fronte, poi bam, ti distrai un secondo e ti becchi un incantesimo in faccia che ti fa giocare alle magie gratis, oppure uno spirito drago che per pura precauzione ti esilia tutti i permanenti. Lo so bene, la gente mi odia. Numero 3 Melma Necrotica Ok, lo so, sono di nuovo di parte con questo tribale, ma stiamo parlando di una creatura in grado di assimilare tutte le abilità attivate delle creature nei cimiteri. Lei è il Griselbrand a costo 4 che non ti aspetti, la creatura che scomba con se stessa se per caso una combo a due carte formata da due creature è finita al cimitero. Insomma, se viene giocata nei mazzi reanimator, al pari di creature come Borborigmo Sinforiato e Griselbrand, un motivo ci sarà, no? Numero 2 Oracolo di Muldaia Ci sono delle carte che ci permettono di giocare terre addizionali, altre che ci fanno tenere d'occhio le carte in cima al nostro mazzo, altre ancora ci permettono invece di giocarle le carte in cima al mazzo, ma raramente una carta ci permette di fare tutte e tre le cose ad un costo così onesto. È vero che tutto è relativo solo alle terre in questo caso, ma possiamo dire per certo che se riusciamo a giocare Oracolo di Muldaia prima del quarto turno, sicuramente sarà un bell'impatto sulla board e una carta da rimuovere al più presto. Numero 1 Simulacro solenne Semplicemente questa carta non ha lati negativi. Ci fa pescare quando muore e giocare una terra base dal mazzo quando entra, andando a rampare, fixare e togliere carte dal mazzo. Una volta mi sono sentita dire, sì ok, però è soltanto un 2-2 per essere un costo 4. E io ho risposto a questa persona che forse doveva rivedere un attimino il suo stile di gioco perché in realtà questo non è un suo punto debole ma una sua forza, visto che gli permette di essere ucciso bloccando creature minuscole e da spari piccolissimi, regalandoci così carte in mano. Poi chi lo sa, magari per non farci rampare il nostro avversario sprecherà la counterspell che invece poteva essere usata per il gold spandragon al turno dopo. O magari per non farci pescare userà la spade a spighe che forse era meglio tenersi per Ulamog. Lo so, so di aver tenuto fuori creature del calibro di Beast Whisperer, Chupacabra e Ant Master, ma oggi è stata davvero dura. Sono curiosa di sapere la vostra, sicuramente alcuni di voi avranno degli appunti da fare, quindi scrivetelo qua sotto nei commenti, sarò molto felice di discutere con voi. Vi ricordo che se il nostro lavoro vi piace potete iscrivervi al canale e far arrivare questo video a 100 like per vederne altri e per supportarci. In descrizione troverete un link unico che vi porterà a tutte le nostre pagine social per contattarci, chiacchierare con noi, rimanere aggiornati su quello che facciamo. E troverete anche il link per le donazioni e per fare acquisti su Cartrader, nel caso vogliate aiutarci a portare avanti ancora di più il nostro canale e anche ricevere in cambio dei contenuti dell'archivio mistico. Un bacio dalla vostra Moxi, alla prossima! Grazie per la visione!